Procedere con urgenza la messa in sicurezza dell'intera area, verificare la tenuta della vasca con 20 metri cubi di materiale non identificato e comprendere se ci sono eventuali pericoli di contaminazione per le aree vicine. Sono i prossimi passi ai quali ARPAC, Vigili del Fuoco e Comuni di Pellezzano e Salerno lavoreranno dopo la bomba ecologica scoperta nell'ex deposito annesso alla fabbrica Cotoniere. Le esalazioni e la fuoriuscita di liquido dai bidoni stipati rappresentano un pericolo e l'episodio che si è verificato sabato ne è la dimostrazione. Le forti esalazioni non sono passate inosservate ai clienti della sala bingo che hanno fatto scattare l'allarme. Ora sarà l'ARPAC a dire quali sostanze sono conservate, ma soprattutto se c'è stata contaminazione nelle acque del fiume Irno situato a pochi passi dal deposito e sul quale nel momento dell'allarme è stata notata una fitta schiuma bianca ancora presente ieri mattina. Al momento, come si legge nella relazione dei Vigili del Fuoco, supportati nell'intervento anche dal nucleo antibatteriologico regionale, è stata esclusa la presenza di sostanze infiammabili ed esplosive, ma riscontrata quella di valori elevati di sostanze organiche abbattuti attraverso l'utilizzo di materiali inerti. Nel deposito in questione, la cui bonifica era stata affidata dal 3 luglio 2018 alla ditta Soggeri, sono stati rinvenuti diversi fusti di materiale etichettato come pericoloso, alcuni dei quali riversi al suolo. Dopo l'intervento di emergenza che si è completato alle prime luci dell'alba di domenica, è ora necessario mettere a punto un piano di sicurezza chiedendo aiuto anche al Ministero dell'Ambiente. Ma anche il Comune di Salerno è pronto a monitorare gli interventi e a fare la sua parte, vista la vicinanza con i confini del capoluogo e del passaggio del fiume Irno. Noi dobbiamo aspettare che l'ARPAC faccia le analisi con coscienza, come giusto che sia, e ci dia il riscontro e il referto di quanto avrà verificato. Al momento la situazione naturalmente è sotto controllo, non è una frase fatta, ma è così, nel senso che sono state neutralizzate, le emissioni d'origine con un'azione meccanica di copertura della vasca che aveva raccolto questo liquame con del terreno, con degli inerti. Però è una situazione assolutamente provvisoria, si dovrà poi passare a una sanificazione del luogo, sapendo però di che cosa stiamo parlando. Allora l'ARPAC è venuta proprio quella notte, eravamo lì tutti quanti alle tre di notte a verificare che cosa stava succedendo, ha fatto dei prelievi e ora ci dovrà dare dei risultati a stretto giro di posta. L'autorità giudiziaria seguirà il suo percorso, noi abbiamo semplicemente in animo la garanzia della salute pubblica, questo per quanto ci compete. Tengo a precisare ancora una volta, ma non per scaricarmi di responsabilità, che siamo nel comune di Pellezzano. Noi siamo intervenuti in sussidio e in collaborazione con la Polizia Municipale del luogo, devo ringraziare la mia Polizia Municipale e la Protezione Civile, ma siamo nel comune di Pellezzano. Naturalmente sono queste cose che per quanto riguarda gli aspetti ecologici non sono confinabili nei limiti geografici, però voglio dire, noi siamo in supporto e siamo liberi di accettare qualsiasi sollecitazione anche da parte del comune di Pellezzano per dare una mano nei limiti delle possibilità e naturalmente pienamente organizzati e disposti per proteggere il nostro territorio.